Ci risiamo a scadenza regolare arriva il nuovo studio che ricorda qualcosa che tutti in Italia conoscono fin troppo bene e cioè che i nostri parlamentari sono i più pagati. Stavolta a fare le pulce alla politica il centro studi di Confindustria. In base alle dimensioni dell'indennità in rapporto al PIL pro capita i parlamentari italiani sono di gran lunga i più ricchi d'Europa. Nel 2012 infatti lo stipendio del deputato in Italia era pari a 4,7 volte il PIL pro capite contro l'1,8 del Regno Unito contando anche i rimborsi, le spese, i contributi ai gruppi parlamentari, i rimborsi elettorali, le spese di trasporto. Questo rapporto sale al 9,8, insomma 10 volte più della media dei cittadini. Il taglio dei costi della politica si difende il governo come quelli della pubblica amministrazione sono una priorità. Frasi ascoltata a scadenza regolare ma se qualcosa per la pubblica amministrazione si muove sotto la spending review di Cottarelli per i costi della politica siamo in alto mare. Le proposte ci sarebbero ma manca la volontà di toccare i benefici personali. La lista è lunga, ridurre di almeno il 30% l'indennità dei parlamentari, riformare seriamente le loro pensioni ma intanto invece di cancellare il cumulo tra pensioni d'oro ed incarichi pubblici si mette un tetto talmente alto da essere finto 300.000 euro l'anno. Pensate poi alle recenti imboscate alla norma per tagliare gli affitti dei palazzi della politica. L'accordo c'è ma al senato viene cancellato tra le pieghe di un'altra legge e solo dopo che i senatori vengono smascherati si torna indietro. Vicenda di fatto simile a quella dei rimborsi elettorali, cancellati ma poi rientrano dalla finestra con il 2 per 1000 fintamente volontario sulle nostre tasse. Se non lo dai ai partiti, dove per invogliarti lo puoi in parte consistente scaricare, lo paghi comunque. A parte, poi c'è tutto il capitolo dei tagli all'assurdo numero dei parlamentari che gli italiani mantengono, 630 nella Camera dei Deputati, 200 in più non di un paese europeo simile a noi ma degli interi Stati Uniti d'America. E di fare al senato il numero dei senatori italiani e tre volte quello americano, una Camera delle Autonomie a costo zero. Ora trovatemi un sindaco o un presidente di regione che è pronto a venire regolarmente a Roma senza pretendere neanche un rimborso spese. Grazie. 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 Grazie.